Del pugilato invece erano di scena al forum di Asago. Si è tenuta la ventesima edizione di Octagon, il più prestigioso galà internazionale di sport di combattimento. Protagonisti assoluti della serata, i fratelli Armen e Giorgio Petrosian, entrambi usciti i vincitori dai rispettivi match contro il giapponese Kido e il tedesco Kel. Grande emozione per il match di fine carriera di Sak Kaopontlek, che ha salutato il ring con una vittoria sul bulgaro Varaz. Qui intanto alcuni dei colpi, vedete, grande spettacolo al forum di Asago.